Picchiato al poto di Policastro l'ex consigliere regionale Giovanni Fortunato, presidente del Consiglio Comunale di Santa Marina. Ad infierire contro di lui è stato un ragazzo di Santa Marina. Difficile stabilire quali siano state le parole che hanno infuocato la conversazione tra i due. L'unico dato certo è che il giovane, con problemi psichici, non ha esitato ad aggredire Fortunato con uno schiaffo. L'episodio si è verificato nel cuore della cittadina rivierasca e nessuno riesce a comprendere esattamente cosa sia accaduto tra i due. A far luce su tutto dovranno essere i carabinieri ai quali l'amministratore comunale ha presentato denuncia contro il suo aggressore. Una persona non equilibrata dal punto di vista psicologico, ma questo non spiega le ragioni per le quali l'uomo sabato mattina abbia preso a schiaffi proprio Fortunato sul porto.